Lei si dice di ricordare che cosa accade quando Gesù involta i suoi compresani. E' bello involvervi a un compresano, ma attenzione proprio qui. E' bello vedere che tutti gli occhi nella sera erano puntati su Gesù. E' bello vedere che tutti i occhi nella sera erano puntati su Gesù. Uno sguardo stupito, che sguardo sarà stato. Ma alla fine di quei giorni, tutti quegli sguardi sono diventati ostili. Perché Gesù è il figlio di un familiare. Ma quando Gesù dice oggi, si arriviù da questa scrittura del profeta Isaria. Isaria è il figlio di molti secoli prima di Gesù. Mi hanno annunciato la vita, come tra gli altri profeti, Isaria è uno dei profeti maggiori. E che cosa dice Isaria? Di fatto non pare che colui che viene è l'ulto di Dio. L'ulto. Ma chi è che viene da l'ulto, l'olio, solo di re, anticamente. E quindi vuole dire che Gesù è un re, è il Messia. Attorno a questa parola, unzioni. E poi anche noi siamo stati uniti. Anche questo partecipiamo alle unzioni regali di Cristo. Anche, nel battesimo, tu dormivi e tu non ti sei attorno. Ma sei stato, con l'olio, con l'olio, con l'olio crismale, olio di metizia, olio profumato, olio di gioia. Ecco, pensate che in una settimana, dicendo che Gesù si presenta nell'ulto di Dio, è una cosa grande. E anche gratuità, piacere, riconoscenza del Mestre. E quindi, questo testo di Israele, è come una prova che Gesù è veramente il figlio di Dio, non è solo il figlio del famigliame. E ha una cosa speciale, rispetto a tutti, che ha un'attenzione verso chi soffre. Questa è una cosa grande. Ma qualcuno dirà, a me, a me, a me, a me che non presto a confiere a loro che soffrono, perché sono persone che se lo so non è inutabile. No. Ma se è un figlio è perché ne ha un bisogno. Ma guarda, in Gesù, nel tuo guardo, nel tuo guardo, nel tuo passato, che vedele sui piccoli disperti, E' oggi più che mai. Allora vedete che questo cibo che è il cuore della cristiana e del cristiano è un annuncio di salvezza e di amore che vuole raggiungere, anzitutto, chi è più in difficoltà. Questa è una cosa bella. Soprattutto chi è più in difficoltà. Non posso andare a letto ogni sera pensando che mi sono incontrato solo con quelli che vengono in chiesa, quelli che vengono. Ma il mio sguardo è di andare oltre chi è in difficoltà, chi è in crisi di fede. E quindi non posso girarmi dall'altra parte di chi è in quello che vuol dire Gesù. Non girarmi dall'altra parte. Perché lui è venuto per cosa? Dice il Vangelo. Lo spirito è sopra di me e parole di sempre sono applicate a Gesù. Mi ha consacrato con l'unione e mi ha mandato, le pedisce, a provare ai poveri. E non sono solo i poveri di vestiti, ma non può essere poveri perché non vanno a mangiare. Uno può essere poveri perché non hai lavoro. Uno può essere povero per tante altre motivi. Ma il più poveri del mondo è che non mi ha amato da nessuno. Il più poveri. Puoi avere 100 casi, puoi avere 10 anni. Ma come mi ha detto uno quando ero a Genova con l'industria, dice io ho 8 casi, ma nessuno mi ama e si è ammazzato. E anche 5. Nessuno mi ama. Eppure aveva i soldi. Non è che non incontrassero i soldi e tombe, ma lui mi ha detto che nessuno mi ama. Non basta essere insieme, ma bisogna amare. Allora, questa è la cosa grande. La volontà è un grande che esiste nella vita. La mancanza di amore, la mancanza di volontà. Allora vedete che queste parole sono importanti anche a lei. Sono parole di speranza. Se anche tutti si dimenticassero di te, ricordavi che io non mi dimenticherò mai. Mai. Solo Gesù è l'unica grande speranza che abbiamo, che dobbiamo provare. Anche quando ci sentiamo imperfetti, perché spiritualmente siamo sempre in cammino. non siamo mai perfetti e animati. Guardiamo tutti le dolorezze. Ma io prego, Signore, non guardare tanto alle mie dolorezze, ma guarda al mio desiderio di te. guarda assieme alla mia fede fragile, e anche se non mi sento dentro del tuo dolore. Anche se non so pregare, anche se sono buonista, anche se sono un mito, ma tu lo vieni in colore. Sì, davanti a Gesù possiamo riconoscere la nostra fede fragile a poter ascoltare questa parola. Quell'oggi di Gesù, oggi nella seta nuova, sia riempiuta questa parola. Quell'oggi è l'oggi della Chiesa. Non del passato, è l'oggi. Cioè Gesù oggi manifesta ancora la sua salvezza. Noi gli diamo una mano. Non è che il mondo va avanti per me o per te. È l'unico riuscito. Noi pensiamo di fare tante cose. Anch'io appena ho mirato il suo saluto per salvare. Di salvare il suo saluto. Dopo ho detto, speriamo che mi saluto io. Cioè... Noi siamo strumenti nella famiglia di Dio. Ma è lui che non è rilassato il mondo. L'ha detto anche a Zecchiti. No, questo grande scienziato ha più di 90 anni. Lucidissimo. Ha detto, c'è un creatore sotto a Dio. Che è un vero scienziato tutto bene. Vedete? Ecco, noi oggi prescrittiamo che siamo tante molte pregiunti del nostro Dio Cristo. però manda il tuo spirito. Manda il tuo spirito. Stasera ti ringrazio per la comunità nella quale vivo. Stasera piccola, ma questa è la mia comunità. Questo è l'unico dove ci compriamo tra fratelli e sorelle. Aiutaci a sperimentare in un giorno la bellezza della tua grazia. E ti voglio sfruttare perché non mi limiti dal tuo amore nei miei confronti. non ti fai sfruttare dalle mie incoerenze, ma continui a rivolgere la tua mamma di libertà, di pace e di speranza. Grazie. Grazie.